Questa GIF la conoscete tutti, ma pochi sanno la triste fine che ha fatto questa bambina. Lei si chiama Kyla Posey ed è diventata famosa proprio grazie alla GIF che ha fatto sorridere e ridere milioni di persone in tutto il mondo. Da bambina aveva partecipato allo show Little Miss America, dal quale proviene la GIF, e da quel momento la sua vita cambiò per sempre. Prima di continuare vi ricordo velocemente che sul mio canale YouTube vi racconto tantissime storie da brividi. Se già mi seguite qua sono sicuro che vi piaceranno. Comunque con il passare degli anni Kyla divenne un'adolescente talentuosa e con un futuro molto brillante davanti a sé. Aveva vinto tanti concorsi di bellezza e tutto sembrava andare per il meglio. Ma il 2 maggio 2022 la sua famiglia ricevette una notizia straziante. La sedicenne Kyla Posey aveva perso la vita. Inizialmente si credeva che fosse morta in un incidente d'auto, ma pochi giorni dopo sua madre fece una rivelazione scioccante. Dopo il ballo di fine anno, Kyla aveva deciso di togliersi la vita in picc***osi. Non sono ancora chiari i motivi per cui l'ha fatto. E sua madre non riesce ancora a darsi pace o a trovare la vita.